Salve Quiriti, ben ritrovati in un nuovo video. Ci sono alcune novità dal fronte, andiamo subito nell'area di Kursk, qua gli ucraini continuano a premere sulla località di Vesele. Qua in particolare abbiamo una geolocalizzazione alle porte di questo villaggio, di questa località, di un mezzo di un veicolo corazzato per la fanteria ucraino che salta in area. In particolare un CV90, un mezzo di fabbricazione svedese, e quindi gli ucraini stanno continuando a cercare di entrare dentro Vesele. Avevamo visto una geolocalizzazione nei giorni scorsi di un attacco dalla parte destra, dalla parte orientale di Vesele, però gli ucraini stanno facendo fatica a penetrare, stanno continuando a far affluire mezzi, uomini, personale, rifornimenti. Da queste parti, per continuare ad attaccare, però ecco non riescono, per quello che sappiamo ad oggi, ad ora, a prendere Vesele. Gli ucraini stanno cercando, allarghiamo un attimino il campo, di andare a minacciare le retrovie dell'attacco russo sul fianco sinistro ucraino di questo territorio. Questo territorio che è in mano Ucraina da più di un mese, dopo appunto l'offensiva di agosto, i russi stanno continuando a premere per cercare di tagliare a loro volta le retrovie, le linee di comunicazione alla base di questa grande testa di ponte Ucraina in territorio russo. Detto questo andiamo in direzione Kupiansk, abbiamo degli aggiornamenti, abbiamo due geolocalizzazioni, la prima relativa a un contrattacco ucraino corazzato da parte della 115esima brigata, in particolare dal secondo battaglione meccanizzato di questa brigata, quindi ecco c'è della presenza, c'è dell'attività ucraina sull'attacco, sul saliente russo di Pisciane, questo grande saliente che sta minacciando veramente tutte le unità ucraine al di qua del fiume Oskil, questo grande fiume che divide la regione in questo settore del fronte, e poi abbiamo una geolocalizzazione posizioni russe sotto il fuoco. Qua abbiamo un'unità che non avevamo ancora visto, almeno io personalmente è la prima volta che la vedo quest'anno in questa sezione del fronte, c'è il terzo distaccamento di fanteria ucraino, e quindi ecco gli ucraini hanno queste due unità in particolare attive per la difesa di Kruglyakivka. Questa località avevamo detto proprio ieri che i russi avevano trovato difficoltà a spingersi verso ovest, verso Kholsnykivka, e ora quindi hanno svoltato verso sud per cercare appunto di penetrare dove su Kholsnykivka non c'erano riusciti. Quindi ecco vedremo anche qui se ci saranno aggiornamenti, comunque i russi vogliono arrivare verso il fiume Oskil, minacciare le linee logistiche ucraine sul settore di Kupiansk. Qua come potete vedere c'è la P79, c'è un'altra strada qua che sta al di qua del fiume Oskil che va verso nord, verso ovviamente come potete vedere Kupiansk, questa città che è la città maggiore della regione. Detto questo andiamo a sud, andiamo in direzione di Toretsk. Ci sono diversi aggiornamenti su Toretsk, ma in particolare su tutto il Donbass. Andiamo a vedere su Toretsk, a dire il vero, ci sono ulteriori prove che ci sono appunto combattimenti feroci, combattimenti urbani. In particolare è attiva la brigata d'assalto Liut, che fa parte della Polizia per Operazioni Speciali, quindi non fa parte del Ministero della Difesa come moltissime altre brigate ucraine. Abbiamo in video in particolare di questa brigata d'assalto e quindi ecco ci testimonia la difficoltà sia di difesa che d'attacco. Quindi ecco i russi stanno cercando di incunearsi in profondità nel centro abitato di Toretsk. Andiamo su Pokrovsk, come abbiamo detto ci sono alcuni aggiornamenti. I russi stanno continuando ad attaccare a ovest di Ucraino, di questo villaggio che è stato preso nell'ultima settimana. I russi hanno preso questa vecchia miniera con annesso Terricon e ora abbiamo una geolocalizzazione, attaccano questa ferrovia, la ferrovia che appunto va da nord verso sud. c'è un attacco corazzato russo. A dire il vero ho notato nella geolocalizzazione che questo campo in particolare è stato poco battuto dall'artiglieria, quindi potrebbe essere che i russi in questo caso si stiano muovendo comunque molto velocemente e che non trovino molte difese ucraine. Ovviamente aspettiamo ulteriori aggiornamenti, però ecco sembra che i russi stiano trovando terreno fertile, tra virgolette, per attaccare, per incunearsi e per andare a creare un solido fianco meridionale per poi attaccare alla pancia Selidove. Su Selidove a livello frontale centralmente i russi non sono riusciti a sfondare, sono arrivati dei rinforzi delle riserve ucraine per cercare di tappare un po' il buco, perché altrimenti la situazione si sarebbe aggravata per gli ucraini. Ora i russi hanno un solido, stanno costruendo un solido appunto fianco saliente meridionale per attaccare Selidove, dovrebbero fare la stessa cosa a settentrione, ma per ora gli ucraini stanno tappando anche qui le falle difensive che avevano, soprattutto su Marinivka, questa località che è ancora contesa, quindi ecco anche qui attendiamo aggiornamenti. I russi si stanno anche spingendo da queste parti, a nord di Ghirnik, questa cittadina che contava prima della guerra più di 10.000 abitanti, quindi piuttosto importante, però come potete vedere i russi stanno avanzando e stanno minacciando questa località nei soborghi più settentrionali. I russi stanno anche minacciando Tsukurine, quest'altro villaggio, quindi ecco si stanno spingendo anche verso occidente. L'obiettivo è andare a prendere, come ho detto, tutta quest'area di località che stanno appunto tra Ucraino, Gelanne Persce e il bacino del fiume Vovcia e quindi Kurakove. Kurakove, obiettivo grosso in questo settore, ne abbiamo già parlato nel video di ieri, in questi giorni comunque qua c'è stato un grande aggiornamento, i russi hanno preso tutto questo territorio a ovest di Krasnogorivka e minacceranno sicuramente Maximilianivka e poi in seguito Kurakove. A dire il vero ci sono già dei primi combattimenti, qualcuno dice, nei soborghi più orientali di questa importante località. Detto questo andiamo più a sud, andiamo in direzione Vuledar. Vuledar, importanza veramente elevata negli ultimi giorni. Ci sono degli importanti aggiornamenti, come potete vedere, i russi sono nel centro abitato di Vuledar. Hanno preso le case basse che stavano qui a est dell'abitato, del cuore di Vuledar. Vuledar è composta per lo più da palazzi nel suo centro. I russi stanno avanzando praticamente in ogni direzione, da est, da ovest, da sud, anche da Krasnogorivka. Hanno preso delle posizioni qua, al di là del fiume, questo fiume qua che divide Krasnogorivka, e quindi ecco stanno minacciando sempre di più Vuledar. Come vi ho sempre detto, su Vuledar l'arteria logistica principale era la 0532. I russi ormai l'hanno presa quasi totalmente in questa sezione del fronte. C'è un'unica strada. C'erano delle stradine, a dire il vero, c'è questa stradina qua che però è stata interrotta, qua è molto vicina al fronte, non è più utilizzabile. C'è un'altra stradina che va da queste parti, scende verso sud, la 0532 è quello che rimane, e poi risale verso Bogoyavlenka, questa stradina, come potete vedere, che sicuramente non è al massimo della sua capacità di viabilità rispetto a un'autostrada normale, poi adesso col fronte, il bombardamento russo e via dicendo. Come potete vedere va verso Bogoyavlenka. I russi però si sono, si stanno avvicinando, hanno preso una sezione importante dei campi qua a ovest, appunto questa piccola sezione, questo piccolo spazio a nord di Pavlivka, e questa grande sezione a est di Vuledar. I russi, si dice, non entreranno a Vuledar fino a quando la situazione sarà veramente matura, perché vogliono, vorrebbero, presumo che vogliano evitare i disastri fatti un anno e mezzo fa. Per disastro intendo appunto le perdite piuttosto importanti avute dai russi negli assalti frontali su Vuledar da Pavlivka a inizio dell'anno scorso, comunque in quel periodo là. Ora i russi hanno aggiustato il tiro, come ho detto, stanno aspettando evidentemente che i tempi siano maturi. Si dice già che gli ucraini si stiano ritirando, però alcune unità permangono nel centro abitato. Vedremo però a questo punto la presa di Vuledar è veramente vicina. Moltissimi di voi mi hanno chiesto come mai Vuledar è così importante. Voglio spendere qualche parola su questo argomento. Allora allarghiamo la mappa. Vuledar si trova in questa sezione. Come potete vedere questa parte del fronte, siamo sud-est più o meno, ecco, della linea del fronte. Non c'è una grande conurbazione, non c'è un grande raggruppamento di centri abitati, villaggi, come può essere già qua, in questa parte, Kurakov e via dicendo più a nord, Pokrovsk, ci sono molti più villaggi. Qua invece la situazione è molto più diradata. Vuledar era una vera e propria roccaforte che dava fastidio ai russi, perché non li faceva avanzare. I russi sono bloccati qui, vi ho detto, da un anno e mezzo, da 2022-2023. Quindi per i russi, prima di tutto, è essenziale prenderla per avanzare sul fronte. Poi è una zona, l'avete visto, di miniere, quindi c'è anche questo tipo di importanza. Ma l'importanza principale è di carattere tattico-operativo. I russi, una volta avanzati, una volta presa Vuledar, potrebbero avanzare di molto. Non sappiamo gli ucraini che dispositivo difensivo potrebbero aver preparato dalle parti di Bogoyavlenka. Però è chiaro che i russi potrebbero avanzare di molto, perché appunto qua ci sono tanti campi, sicuramente non aspettatevi un'avanzata tipo 30 km al giorno, non siamo a questi livelli. Però potrebbe esserci un'avanzata significativa, che potrebbe dare fastidio ad altri due settori. Il settore di Velika-Novosilka, qua a ovest, e il settore più a nord-est, dalle parti di Kurakove. Gli ucraini potrebbero aver preparato qualcosa su questa linea qua, su questa linea qua lo ingrandisco ancora, Kurakove-Velika-Novosilka. Però come potete vedere qui ci potrebbe essere il potenziale, la possibilità di un'avanzata piuttosto significativa. Vuledar impedisce quella avanzata in questo settore. E quindi impedisce una razionalizzazione del fronte da parte russa, che andrebbero a minacciare sul fianco destro Velika-Novosilka, e sul fianco meridionale Kurakove. Perché se vai verso Bogoyavlenka, già arrivare a Bogoyavlenka, poi ovviamente c'è tutta questa sezione, tutta questa linea di centri abitati, ti darebbe ulteriori alternative arrivare da queste parti, a mio parere. Vedremo ovviamente cosa succederà, lo capiremo solo dopo la presa di Vuledar, però ecco questo è un po' il quadro della situazione. Per oggi è tutto, ci vediamo a un prossimo video. Un saluto dal vostro Davide.